Ebanista Comanda le tue dita che scivolano con armoniosa destrezza fra gli utensili della tua maestria. Pazienza ed esperienza sono le tue compagne fedeli e veritiere del tuo laborioso lavoro e la tua anima ne va orgogliosa. Passano i giorni, i mesi, anche gli anni, ma le tue mani non si stancano mai di dar vita nel tempo a ciò che hai sognato e promesso agli altri e a te stesso. Non si ferma la tua matura mano di creare ricordi e affetti che di indole minuziose son fatti e che degli anni tuoi donasti.